Via Edolo svolgiamo attività di ricerca nell'ambito agroambientale e agroalimentare. In particolare io e i miei colleghi ricercatori ci occupiamo di caratterizzare e valorizzare antiche varietà di cereali e ortaggi che venivano coltivate sulle nostre montagne cercando di ricreare nuove filiere agroalimentari uniche di pregio e di qualità. In questi lavori di ricerca noi coinvolgiamo i nostri studenti sin dai primi giorni che giungono ad Unimont nelle attività che svolgiamo sia in laboratorio sia in campo all'aperto, nei campi sperimentali, nelle foreste, nei prati, nei pascoli degli ambienti montani. Tutto questo, tutto ciò che deriva dalla nostra attività di ricerca lo riversiamo poi i nostri studenti sotto forma di formazione, di informazione per creare professionisti della montagna.